5. 2350 MDT. Monte Blue Dome, Idaho. Un camper Ford Roamer, color canna di fucile, risaliva la stretta strada serpeggiante che portava in cima al Monte Blue Dome, a 3.300 metri sul livello del mare e a un centinaio di chilometri a nord-ovest dalle Idaho Falls. Su entrambi i lati della strada, delle fitte foreste di pini si aggrappavano a ruvidi costoni rocciosi. I fari del camper foravano la nebbia bassa e le luci del cruscotto tingevano di verde il volto tirato e stanco dell'uomo di mezza età dietro al volante. Nel sedile reclinato accanto a lui, sua moglie stava dormendo, con una mappa dell'Aidaho aperta in grembo. Nella successiva curva lunga, i fari colpirono un cartello al lato della strada, su cui c'era scritto, in caratteri arancione chiaro luminescenti, «Proprietà privata. Si sparerà i trasgressori». Phil Kroninger rallentò il camper, ma aveva nel portafogli la tessera identificativa di plastica che gli avevano spedito, quindi superò il cartello di divieto e continuò a salire lungo il sentiero di montagna. «Lo farebbero davvero, papà?» chiese suo figlio, con voce acuta, dai sedili alle sue spalle. «Farebbero cosa?» «Sparare ai trasgressori. Lo farebbero davvero?» «Lo sai, non vogliono nessuno quassù che non sia autorizzato». Diede un'occhiata allo specchietto retrovisore e intravide il volto tinto di verde di suo figlio, che alleggiava come una maschera di Halloween sopra la sua spalla. Padre e figlio si assomigliavano molto. Portavano entrambi i occhiali dalle lenti spesse, avevano capelli sottili e lisci ed erano magri e ossuti. I capelli di Phil erano striati di grigio e stavano diminuendo rapidamente, e quelli del tredicenne erano castano scuro e tagliati con una frangia dritta per nascondere l'altezza della sua fronte. Il volto del ragazzo era un insieme di angoli acuti, come quello della madre. Il suo naso, il mento e gli zigomi sembravano tutti sul punto di spuntare attraverso la sua pelle pallida, come se ci fosse un secondo volto sotto il primo pronto per essere rivelato. I suoi occhi, ingranditi leggermente dalle lenti, avevano il colore della cenere. Indossava una maglietta tinta con colori mimetici, un paio di pantaloncini cachi e scarponi da trekking. Elise Groninger si mosse. «Siamo arrivati», chiese assonnata. «Quasi, dovremmo vedere qualcosa. Molto presto». Era stato un viaggio lungo e stancante da Flagstaff, e Phil aveva insistito per viaggiare di notte perché, secondo i suoi calcoli, le temperature più basse erano meglio per gli pneumatici e facevano risparmiare carburante. Era un uomo cauto, che non correva rischi. «Scommetto che ci stanno osservando proprio adesso con il radar». Il ragazzo guardò verso la foresta. «Scommetto che ci stanno selezionando». «Potrebbe essere», concesse Phil. «Hanno più o meno tutto quello che riesce a immaginare quassù. È un posto strepitoso. Aspetta di vederlo». «Spero sia fresco all'interno», disse Elisa in modo scontroso. «Dio sa che non ho fatto tutta questa strada per cuocere in una galleria di miniera». «Non è una galleria di miniera», le ricordò Phil. «In ogni caso, è naturalmente fresco. E hanno ogni genere di sistema di filtraggio dell'aria ed equipaggiamento per la sicurezza. Vedrai». Il ragazzo disse «Ci stanno osservando! Sento che ci stanno osservando!». Tastò sotto il suo sedile alla ricerca di quello che sapeva esservi nascosto, e la sua mano risalì stringendo una Magnum 357. «Bang!», disse, e premette il grilletto verso la foresta scura alla sua destra, e un altro «Bang!» verso sinistra. «Metti giù quella cosa, Roland!», gli disse sua madre. «Mettila via, figliolo. Non vogliamo che la tiri fuori». Roland Croninger esitò e fece un ghigno malevolo. Puntò la pistola al centro della testa di sua madre, tirò il grilletto e disse piano «Bang!», e poi un altro «Bang!» e uno scatto del grilletto contro la testa di suo padre. «Roland», disse suo padre in quello che doveva sembrare un tono severo. «Smettila di giocare adesso, metti via la pistola». «Roland!», lo ammonì sua madre. «E va bene!», ripose l'arma sotto il sedile. «Mi stavo solo divertendo un po'. Voi due prendete tutto troppo sul serio». Ci fu uno scossone improvviso quando Phil Croninger piantò il piede sul pedale del freno. Al centro della strada c'erano due uomini con elmi verdi e uniformi mimetiche. Entrambi avevano in mano una mitraglietta Ingram e avevano una fondina per una 45 alla cintura. Le mitragliette erano puntate dritte contro il parabrezza del camper. «Cesù», sussurrò Phil. Uno dei soldati gli indicò a gesti di abbassare il finestrino. Quando Phil l'ebbe fatto, il soldato si avvicinò al suo lato del camper, accese una torcia e gliela puntò in faccia. «Si identifichi, prego», disse. Era un uomo giovane, con il volto duro e occhi blu elettrico. Phil tirò fuori il portafoglio e la tessera identificativa e la porse al giovane, che esaminò la fotografia di Phil su di essa. «Quanti siete, signore?», chiese il soldato. «Tre. Io, mia moglie e mio figlio. Siamo attesi». Il giovane diede la tessera di Phil all'altro soldato, che estrasse un walkie-talkie dalla sua cintura multiuso. Phil gli sentì dire «Centrale, qui è il posto di controllo. Abbiamo tre persone in arrivo in un camper grigio. Il nome sulla tessera è Philly Posting-Kroninger. Numero della tessera 06714724. Resto in attesa di conferma». «Wow!», sussurrò Roland eccitato. «E' come nei film di guerra!» «Shh!», lo ammonì suo padre. Roland ammirò le uniformi dei soldati. Notò che gli anfibi erano tirati al lucido e che i pantaloni mimetici avevano ancora la piega. Sul petto di ciascuno dei soldati c'era uno stemma che mostrava un pugno in armatura che stringeva un lampo e sotto il simbolo c'era scritto, ricamato in oro, Earth House. «Ok, grazie, Centrale», disse il soldato con il walkie-talkie. Restituì la tessera all'altro che la porse a Phil. «Ecco a lei, signore. Il vostro orario d'arrivo previsto era le 22.45». «Mi dispiace». Phil prese la tessera e la ripose nel portafogli. «Ci siamo fermati tardi per cena». «Segua solo la strada», spiegò il giovane. «Circa 400 metri più avanti vedrà un segnale di stop. Si assicuri che le sue ruote siano allineate con i segni, ok? Prosegua». Fece un brusco movimento con la sua arma e quando il secondo soldato fece un passo di lato, Phil si allontanò dal posto di controllo. Quando guardò di nuovo lo specchietto, vide i soldati rientrare nella foresta. «Tutti quanti riceveranno un uniforme, papà», chiese Roland. «No, temo di no. Solo gli uomini che lavorano lì portano l'uniforme». «Non li ho nemmeno visti», disse Elise, ancora nervosa. «Ho alzato gli occhi ed eccoli là. Ci stavano puntando contro quelle armi. E se fosse partito un colpo?» «Questi sono professionisti, tesoro. Non sarebbero qui se non sapessero cosa stanno facendo. E sono certo che tutti quanti sappiano come maneggiare le armi. Questo ti mostra solo quanto saremo al sicuro per le prossime due settimane. Nessuno che non sia autorizzato arriva quassù». «Giusto?» «Giusto», disse Roland. Aveva avuto un brivido di eccitazione quando aveva guardato nelle canne di quelle mitragliette Ingram. Se avessero voluto, pensò, avrebbero potuto spazzarci via con una sola raffica, una pressione sul grilletto e zap. Quella sensazione lo lasciò stranamente rinvigorito, come se gli avessero gettato in faccia dell'acqua fredda. Era una cosa buona, pensò, molto buona. Una delle qualità di un cavaliere del re era gestire il pericolo senza problemi. «Ecco il cartello di stop», disse loro Phil, quando i fari lo colpirono dritto davanti a loro. Il grande cartello era affisso a una parete di roccia ruvida e frastagliata, che bloccava la strada di montagna. Intorno a loro c'erano soltanto foreste oscure e altre pareti rocciose. Non c'era alcun segno del posto per cui erano arrivati lì fin da Flagstaff. «Come fai a entrare?», chiese Elise. «Vedrai, questa è una delle cose più fantastiche che mi hanno mostrato». Phil era stato lì ad aprile, dopo aver letto una pubblicità di Earth House sulla rivista Soldier of Fortune. Avanzò lentamente con il romer fino a quando gli pneumatici anteriori affondarono in due solchi nella terra e fecero scattare un paio di fermi. Ciudì quasi immediatamente un rombo. Il rumore di macchine pesanti, ingranaggi e catene in illuminazione. Alla base della parete rocciosa comparve una fessura luminosa. Una sezione di essa si stava sollevando, senza scosse, come la porta del garage dei Kroninger a casa. Ma a Roland Kroninger sembrò che si stesse aprendo un imponente portale di una fortezza medievale. Il suo cuore aveva iniziato a battere forte e la fessura di luce riflessa nelle lenti dei suoi occhiali diventava più ampia e luminosa. «Mio Dio!» disse Elise piano. La parete di roccia si stava aprendo per rivelare un parcheggio asfaltato, con i posteggi pieni di auto e altri camper. Da un reticolo di travi metalliche vicino al soffitto pendeva una fila di luci. Sulla soglia c'era un soldato in uniforme che gesticolava per invitare Phil a venire avanti. Lui avanzò con i solchi che guidavano il romer su una rampa asfaltata fino al parcheggio. Non appena le ruote furono libere dai fermi, il portale iniziò a richiudersi rombando. Il soldato condusse Phil a un posteggio tra altri due camper e fece il gesto di passarsi le dita sulla gola. «E quello che significa?» chiese Elise a disagio. Phil sorrise. «Ci sta dicendo di spegnere il motore!» Lo fece. «Siamo arrivati, banda!» Il portale di roccia si chiuse con un tonfo forte e decheggiante e il mondo esterno fu chiuso fuori. «Siamo nell'esercito adesso!» disse Phil a suo figlio e l'espressione del ragazzo era di stupore sognante. Quando scesero dal romer si avvicinarono due veicoli elettrici. Nel primo c'era un giovane sorridente, con i capelli di un castano sabbioso e dal taglio militare, che indossava un uniforme blu scuro con lo stemma di Earth House sul taschino. L'altro veicolo portava due uomini robusti in tute blu scuro e aveva un rimorchio per i bagagli, come quelli usati negli aeroporti. Il giovane sorridente, i cui denti bianchi sembravano riflettere la luce fluorescente, controllò le informazioni sulla sua cartellina per assicurarsi di avere il nome giusto. «Salve gente!» disse con allegria. «Il signore e la signora Croninger?» «Esatto», disse Phil. «E nostro figlio Roland?» «Ciao Roland! Avete fatto un buon viaggio da Flagstaff?» «Un viaggio lungo», gli disse Elise. Si guardò intorno nel parcheggio e calcolò che dovevano esserci ben più di duecento auto. «Dio mio! Quanta gente c'è qui!» «Siamo circa al 95% della capacità, signora Croninger. Prevediamo di arrivare al cento per cento per il fine settimana. Signor Croninger, se vuole dare le sue chiavi a questi due gentiluomini, si occuperanno di portare il vostro bagaglio per voi». Phil fece come gli fu chiesto e i due uomini iniziarono a scaricare valigie e casse dal rumor. «Ho dell'attrezzatura informatica lì dentro», disse Roland al giovane. «Sarà a posto, vero?» «Certamente! Saltate su e vi porterò al vostro alloggio». «Caporale Matis?» disse, rivolgendosi a uno degli uomini indaffarati con i bagagli. «Questi vanno alla sezione C, numero 16. Voi siete pronti?» Phil si era seduto sul sedile del passeggero e sua moglie e suo figlio sui sedili posteriori. Phil annui e il giovane li portò attraverso il parcheggio e imboccò un corridoio, pavimentato in cemento e percorso da luci, che scendeva con una lieve pendenza. Una brezza fresca era mossa da occasionali ventilatori da soffitto, collocati strategicamente. Dal primo si allontanavano altri corridoi e c'erano frecce che puntavano alle sezioni A, B e C. «Io sono il sergente dell'accoglienza Shore». Il giovane porse la mano e Phil la strinse. «È un piacere avervi con noi. Avete domande a cui posso rispondere?» «Beh, io ho fatto il tour lo scorso aprile e conosco l'Earth House», spiegò Phil. «Ma non credo che mia moglie e mio figlio possano farsi un'idea efficace dalla brochure. Elise si preoccupava per la circolazione dell'aria qua sotto». Shore sorrise. «Non c'è da preoccuparsi, signora Croninger. Abbiamo due sistemi di filtraggio dell'aria all'avanguardia, uno in funzione e uno di riserva. Il sistema si accenderebbe nell'arco di un minuto, in caso di codice rosso, vale a dire quando ci aspettiamo un impatto e sigilliamo le prese d'aria. In questo momento, però, le prese d'aria stanno aspirando una gran quantità di aria dall'esterno. E posso garantirle che l'aria sul Monte Blue Dome è probabilmente la più pura che mai respirerà. Ci sono le aree abitate, le sezioni A, B e C, su questo livello. E sotto di noi ci sono il centro di comando e il livello manutenzione. Là sotto, a 15 metri sotto di noi, ci sono la stanza dei generatori, l'armeria, il deposito d'emergenza di cibo e acqua, la stanza dei radar e gli alloggi degli ufficiali. A proposito, abbiamo la regola di depositare tutte le armi da fuoco che arrivano nella nostra armeria. Per caso ne avete qualcuna con voi? Una Magnum 357, disse Phil, sotto il sedile posteriore. Non sapevo di questa regola. Sono sicuro che le sia sfuggita nel contratto che ha firmato, ma credo che sarà d'accordo sul fatto che le armi da fuoco debbano essere raccolte per la sicurezza dei residenti di Earth House, giusto? Sorrise a Phil. E questi annui. La registreremo e le daremo una ricevuta. E tra due settimane, quando ve ne andrete di nuovo, l'aria avrà pulita e lucidata. «Che tipo di armi avete qua sotto?» chiese Roland decitato. «Oh, pistole, fucili automatici, mitragliette, mortai, lanciafiamme, granate, mine anti-uomo e anti-veicolo, razzi di segnalazione, più o meno tutto quello cui riesci a pensare. E ovviamente qua sotto teniamo anche le nostre maschere anti-gas e le tute anti-radiazione. Quando questo posto è stato costruito, il colonnello Macklin voleva che fosse una fortezza imprendibile, che è esattamente quello che è. Il colonnello Macklin, pensò Roland. Il colonnello James Jimbo Macklin. Roland conosceva quel nome, grazie agli articoli nelle riviste su sopravvivenza e armi a cui suo padre era abbonato. Il colonnello Macklin aveva una lunga serie di successi come pilota di 105D Thunderchief nel Vietnam del Nord. Era stato abbattuto nel 1971 ed era stato un prigioniero di guerra fino alla fine del conflitto. Poi era tornato in Vietnam e in Docina alla ricerca dei dispersi in azione e aveva combattuto con soldati di fortuna in Sudafrica, Chad e Libano. «Potremo incontrare il colonnello Macklin!» «L'orientamento è alle otto in punto nel municipio. Sarà lì!» Videro un cartello con scritto «Sezione C» con una freccia che puntava a destra. Il sergente Shore lasciò il corridoio principale e le ruote passarono sopra a pezzi di cemento e roccia disseminati sul pavimento. Dell'acqua gocciolava dall'alto in una pozzanghera che si stava allargando e li bagnò tutti prima che Shore riuscisse a frenare il veicolo. Il sergente guardò indietro e il suo sorriso tremolò. Fermò il veicolo e i Kroninger videro che era collassata una parte del soffitto grande quanto un tombino. Nel foro si vedevano barre di ferro e rete metallica. Shore estrasse un walkie-talkie dal cruscotto del veicolo. Lo accese e disse «Parla Shore, vicino alla congiunzione tra il corridoio centrale e il corridoio C. Ho un problema di drenaggio qui, mi serve una squadra delle pulizie subito. Mi ricevete?» «La ricevo», rispose una voce, indebolita da scariche statiche. «Di nuovo problemi?» «Ho dei nuovi arrivati con me, caporale». «Mi scusi, signore. La squadra delle pulizie è in arrivo». Shore spense il walkie-talkie. Il suo sorriso tornò, ma i suoi occhi castano chiaro erano a disagio. «Problemi minori, signori. Earth House ha un sistema di drenaggio all'avanguardia, ma a volte abbiamo queste perdite minori. La squadra delle pulizie se ne occuperà». Elise indicò in alto. Aveva notato il puzzle di crepe e rattoppi nel soffitto. «Quello non mi sembra troppo sicuro. E se quella roba collassa?» guardò suo marito con occhi spalancati. «Mio Dio, Phil, dobbiamo restare qua per due settimane sotto una montagna che perde!» «Signora Croninger», disse Shore con la sua voce più tranquillizzante, «questa installazione non sarebbe al 95% della sua capacità se non fosse sicura. Ora concordo che si debba lavorare sul sistema di drenaggio e lo stiamo sistemando, ma non c'è assolutamente nessun pericolo. Abbiamo fatto ispezionare Earth House a ingegneri strutturali ed esperti delle sollecitazioni e tutti hanno dato il loro nulla osta. Questo è un condominio della sopravvivenza, signora Croninger. Non saremo qui se non volessimo sopravvivere all'olocausto in arrivo, giusto?» Elise guardò avanti e indietro tra suo marito e il giovane uomo. Suo marito aveva pagato 50.000 dollari per accedere alla multiproprietà di Earth House. Due settimane all'anno, per sempre, in quello che le brochure chiamavano «una lussuosa fortezza della sopravvivenza nelle montagne del sud dell'Idaho». Certo, anche lei credeva che l'olocausto nucleare sarebbe arrivato presto. Phil aveva scaffali pieni di libri sulla guerra nucleare ed era convinto che sarebbe scoppiata entro un anno e che gli Stati Uniti sarebbero stati messi in ginocchio dagli invasori russi. Aveva voluto trovare un posto, come le aveva detto, per offrire l'ultima resistenza. Lei però aveva provato a fargli cambiare idea, dicendogli che stava scommettendo 50.000 dollari sull'eventualità che il disastro nucleare sarebbe accaduto in uno dei loro periodi di due settimane di permanenza e quella era una scommessa alquanto folle. Lui le aveva spiegato l'opzione di protezione Earth House, che significava che per ulteriori 5.000 dollari l'anno, la famiglia Croninger avrebbe potuto rifugiarsi a Earth House in qualsiasi momento, entro 24 ore dalla detonazione di un missile nucleare lanciato dai nemici all'interno degli Stati Uniti continentali. Era un'assicurazione contro l'olocausto, le aveva detto. Tutti sapevano che le bombe sarebbero cadute, era solo una questione di quando. E Phil Croninger era molto consapevole dell'importanza di un'assicurazione, dato che possedeva una delle più grandi agenzie ed assicurazione indipendenti dell'Arizona. «Immagino di sì», disse lei alla fine, ma era preoccupata da quelle crepe e dai rappezzi e dalla vista di quella fragile rete metallica che si vedeva nel nuovo foro. Il sergente Shore accelerò il loro veicolo elettrico. Superarono porte metalliche su entrambi i lati del corridoio. «Deve essere costato un sacco costruire questo posto», disse Roland. «Esce ora a noi». «Qualche milione», rispose l'uomo. «Senza contare gli spiccioli. Una coppia di fratelli del Texas ha messo i soldi, sono anche loro dei survivalisti, e si sono arricchiti con i pozzi di petrolio. Negli anni quaranta e cinquanta questo posto era una miniera d'argento. Ma la vena si è esaurita ed è rimasto semplicemente qua fino a quando l'hanno comprato gli Osli. Eccoci, è proprio qua davanti». Rallentò il veicolo e si fermò davanti a una porta metallica, contrassegnata con il numero 16. «La vostra casa dolce casa per le prossime due settimane, amici». Aprì la porta con una chiave appesa a un portachiavi, con il simbolo di Earth House. Infilò dentro il braccio e accese le luci. Prima di seguire suo marito e suo figlio oltre la soglia, Elise Groninger sentì il suono di acqua che gocciolava e vide un'altra pozzanghera allargarsi nel corridoio. Il soffitto perdeva in tre punti e c'era una lunga crepa irregolare larga sei centimetri. «Gesù!» pensò innervosita. Ma entrò comunque nella stanza. La sua prima impressione fu quella dell'austerità di una caserma militare. I muri erano di blocchi di calcestruzzo dipinti di beige e decorati con alcuni quadri a olio. Il tappeto era abbastanza spesso e di un rosso ruggine non proprio brutto, ma il soffitto le sembrava terribilmente basso. Anche se superava la testa di Phil di circa 15 centimetri, e lui era alto un metro e ottanta, l'apparente mancanza di altezza nel soggiorno dell'appartamento, come lo chiamava la brochure, la faceva sentire quasi, sì penso, quasi sepolta. Una cosa bella però era che l'intera parete più lontana era una fotografia a muro di montagne ricoperte di neve e allargava un po' la stanza, anche se solo con un'illusione ottica. C'erano due camere da letto e un solo bagno che le collegava. Al sergente occorsero alcuni minuti per mostrare loro il tutto, dando una dimostrazione del gabinetto che scaricava verso l'alto, in un serbatoio che, disse, distribuiva il materiale di scarto sul suolo della foresta, aiutando così la crescita della vegetazione. Anche le camere da letto erano costruite con blocchi di calcestruzzo dipinti di beige e i soffitti erano rivestiti di piastrelle di sughero che, pensò Elise, nascondevano il reticolo di travi metalliche e aste di rinforzo. È grandioso, vero? Le chiese Phil. Non è qualcosa di strepitoso? Non ne sono sicura, rispose lei. Mi sento ancora come se fossi nella galleria di una miniera. No, quello passerà, le disse Shaw raffabilmente. Alcuni di quelli che arrivano per la prima volta soffrono di claustrofobia, ma si affievolisce. Lasci che le dia questa, disse, e diede a Phil una mappa di Earth House, che spiegò per mostrare la caffetteria, la palestra, l'infermeria e la sala giochi. Il municipio è proprio qui, disse, e indicò un punto sulla mappa. In realtà è solo un auditorium, ma pensiamo di essere una comunità qua sotto, giusto? Lasciate che vi mostri il modo più rapido per arrivarci da qui. Nella sua camera da letto, la più piccola delle due, Roland aveva acceso la lampada da comodino e stava cercando una presa elettrica adatta per il suo computer. La camera era piccola, ma pensava che fosse a posto. Era l'atmosfera che contava e non vedeva l'ora di frequentare i seminari su armi improvvisate, vivere di quello che offre l'ambiente, governi nel caos e tattiche di guerriglia, che la brochure aveva promesso. Trovò una presa adatta, abbastanza vicina al letto per potersi appoggiare ai cuscini mentre programmava il gioco del Cavaliere del Re sul suo computer. Pensava che nelle successive due settimane avrebbe inventato dei dungeon e dei mostri che li infestavano, che avrebbero fatto tremare nei suoi schinieri anche un Cavaliere del Re esperto e impassibile come lui. Roland si diresse all'armadio e lo aprì per vedere quanto spazio aveva per riporre la sua roba. L'interno era rivestito a buon mercato e c'erano alcune grucce di filo di ferro appese al bastone. Ma all'improvviso qualcosa di piccolo e giallo guizzò sul fondo dell'armadio come una foglia autunnale. Istintivamente Roland allungò il braccio e la catturò, chiudendole intorno le dita. Poi andò fino alla luce e apprì cautamente il palmo. Stordita, sulla sua mano giaceva una fragile farfalla gialla, con strisce dorate e verdi sulle ali. I suoi occhi erano capocchi di spillo verde scuro, come smeraldi scintillanti. La farfalla sbatte le ali, debole e disorientata. «E tu? Da quanto tempo sei qua?» si chiese Roland. Non c'era modo di dirlo. Probabilmente era arrivata con l'auto e il camper di qualcuno, o nei suoi vestiti. Portò la mano più vicina al suo volto e per qualche secondo fissò negli occhietti della creatura. E poi schiacciò la farfalla nel pugno, sentendo il corpo frantumarsi sotto la forza della sua stretta. «Zap!» pensò. «Super zap!» Di certo non aveva fatto tutta la strada da Flagstaff, disse a se stesso, per dividere la camera con un cazzo di insetto giallo. Gettò i resti maciullati in un cestino per i rifiuti. Poi si pulì il palmo, coperto di brillantini gialli, sui pantaloncini, e tornò nel soggiorno. Shore stava augurando la buonanotte e gli altri due uomini erano appena arrivati con i bagagli e con l'attrezzatura di Roland. «L'orientamento alle otto, signori!» disse Shore. «Ci vediamo lì!» «Grande!» disse Phil Croninger, eccitato. «Grande!» disse Elise, con voce che lasciava trasparire il sarcasmo. Il sergente Shore, con il sorriso ancora al suo posto, lasciò l'appartamento numero 16. Ma il sorriso scomparve non appena salì sul veicolo elettrico e la sua bocca si trasformò in una linea cupa e dritta. Fece girare il veicolo e tornò all'area dove c'erano i detriti sul pavimento e disse alla squadra delle pulizie che avrebbero fatto meglio a muovere il culo a riparare quelle crepe e questa volta in modo permanente, prima che l'intera dannata sezione cadesse a pezzi.